Nino, alberti la mamma! Cosa c'è, vacca boia? Cos'è avete paura che finisca la guerra? Aless, complimenti! Guarda, lì c'hanno fretta! Pecoroni! Vecchie gente! Oh, Ita! Senti un po', sei di servizio qui, Ita. Mi pare. Romano, eh? Perché? Perché l'italiano è infanteria e il romano è infureria. Togliati, presto! Per la cronaca a sto posto non l'ho scelto io. Io uso obbedir tacendo e tacendo morir. Va bene, va bene, lascia andare. Comunque, dico, ci potrebbe essere vero qualcuno, con rispetto parlando, che, malgrado l'apparenza è contrario, c'ha la salute minata e non se la sente mica. Allora, vero, un rinvio, poi sdebitantosi, eh, si intende? Sarebbe anche un'opera di umanità. Ma che dovrei dire io? E' romano abbi l'arollato e il milanese riformato. Va bene, va bene, come non detto. Vieni qua, aspetta. Che non si dica poi che noi siamo l'animo cattivo. Hai detto che sei malato? Eh. Ma voglio dire che si può fare. Andiamo! Come spadano questi? A terra! Questi sono fatti! Tu resta libero il tuo strato! Dai! Simonsenti! Andata! Pronto! Pronto? Ma che cos'è che dice? Non si capisce niente qui! Ma che cosa fate? C'è un tedesco qui! Ma dov'è che ti sei attaccato, bestia? Mi sono investato! Ho lasciato la mamma mia! Comunicato il mio comando che prego a voi farmi sapere il luogo di ponte di barche. Prego non sprecare vostre parole per negare ciò. Aggiungo a quello che ho detto che se voi non mi comunicate il posto del ponte delle barche, faccio voi imitatamente fucilare. Adesso noi avremmo deciso, è vero? Sì, sì. Che va bene, glielo diciamo. Cipolla 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 Courage? Figato, dicono. Quelli conoscono soltanto figato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. E allora, senti un po'. Visto che parli così. Mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda! COMPRIMISER Cipolla Dio Cipolla 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 Dio Cipolla Dio Cipolla Dio